Bagno di folla in Via Romana per la non edizione della Festa dei Commercianti. Sabato sera Via Romana in festa e l'importante arteria cittadina si trasforma in una felice isola pedonale. In strada le attività commerciali hanno messo in vetrina tutta la loro professionalità. Lunga la scia di famiglie e visitatori che si sono intrattenuti fino alla mezzanotte. Via Romana in festa si conferma così un evento di successo che nel 2018 festeggerà l'importante traguardo delle Dieci Candeline, un anniversario che conferma alla viva città del quartiere delle numerosissime attività commerciali che ogni giorno tengono viva la strada con i loro negozi. Nove anni che la Confesercenti si impegna nell'organizzazione di questa festa che è una festa sempre che viene molto bene partecipata e ormai è una tradizione. Via Romana diventa un'isola pedonale per questa sera e tutte le attività appunto come dicevi della strada partecipano con la propria proposta commerciale quindi si trovano i pubblici esercizi, la macelleria piuttosto che la gelateria ma anche i negozi di abbigliamento che comunque propongono il loro prodotto e quindi è veramente un piacere poi anche organizzarla perché si vede la partecipazione di tante persone. Perché noi qui in Via Romana siamo stati i primi a fare questa festa, poi un po' tutte le altre vie ci sono venute dietro, quindi noi ci teniamo come commercianti, ci teniamo molto a fare questa festa, noi non andiamo a intracciare nessun'altra attività perché qui delle attività ce ne sono diverse e ognuno fa quello che commercialmente fa. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti